bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tutte le novità riguardanti il futuro di fortnite e ovviamente l'argomento più hot di questo periodo la patch 12.60 vedremo alcune indiscrezioni cerchiamo di capire quando esce in questa settimana e vediamo anche alcune cose che non sono piaciute a degli streamer di un certo livello prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora ragazzi andiamo direttamente dentro al primo argomento di oggi si parla di patch 12.60 con delle notizie ufficiali purtroppo aggiornati a mezzanotte di lunedì non c'è ancora nessuna notizia ufficiale in game dell'uscita della 12.60 ma sappiamo che settimana scorsa l'hanno inserita negli status server e quindi dobbiamo assolutamente vederla in questi giorni io credo che arriverà mercoledì quindi domani incrociamo le dita abbiamo però ragazzi degli argomenti ufficiali come vi anticipavo che ci annunciano alcuni fix che verranno fatti con questo nuovo aggiornamento se andiamo a leggere innanzitutto verrà riattivato il dragacorn anche in arena quindi il deltaplano di deadpool che era stato disabilitato appunto per causa dell'animazione fluttuante che non faceva capire bene ai giocatori come sparare con la tempistica giusta per laserare al volo avremo anche di nuovo il nostro piccone batton adesso non ricordo il nome in italiano praticamente il piccone quello di star wars che si tiene impugnato con una mano sola che aveva il problema che una volta impugnato non faceva sentire i passi agli avversari e quindi era esageratamente op e poi un piccolo problema che molti stanno riscontrando praticamente quando si viene ittati a volte viene evidenziato in game una direzione sbagliata da quella della direzione del colpo quindi verrà sistemata anche questa cosa alcune modifiche anche per quanto riguarda la creativa e per quanto riguarda salva al mondo le munizioni di salva al mondo che a volte vengono usate non vengono calcolate correttamente quindi sistemeranno anche quello e il fatto che il momento dell'esplosione delle bombe fa danno anche ai giocatori dall'altra parte dell'edificio quindi parlo sempre di save the world incrociamo le dita ragazzi e aspettiamo comunque di vedere finalmente questo aggiornamento e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi perché si parla di overtime challenge e questa immagine che vi sto mostrando tratta di due argomenti in un colpo solo innanzitutto è un'immagine che è già qualche giorno sulla bocca di molti post su reddit su trello e su tutti i forum dedicati a fortnite perché potrebbe essere una delle skin delle possibili overtime challenge quindi le sfide che siamo abituati a vedere proprio al termine delle season e che ci danno degli stili extra per alcune skin ed infatti devo dire che la banana in questa veste è tanta tanta roba un mix tra gli spettri con i pantaloni delle ombre con la banana gold e quindi staremo a vedere se per caso è un piccolo easter eggs direttamente da parte di fortnite o semplicemente un'icona utilizzata per le fncs tra l'altro anche le fncs appunto sono di nuovo nel mirino dei più grandi streamer del mondo e parlo di gente ai livelli di ninja di tfew ma anche di ghost aidan che parlano di un argomento trattato da giorni mesi in questi in questo periodo ovviamente mi riferisco all'eim assist per i giocatori che utilizzano un controller durante le partite matchate su pc ovviamente mi riferisco solo ed esclusivamente per le partite da computer come sappiamo ragazzi aidan usa il controller uno dei più forti giocatori da pad del mondo mentre tfew e ninja e altri utilizzano mk di nuovo tutto inizia da un'immagine che pubblica tfew sulla sua pagina instagram e che fa vedere la classifica delle prime 13 posizioni per le fncs in solo della dei server americani come vedete è un'immagine davvero evidente perché i primi 13 di questi giocatori hanno tutti il controller da l'itfew di nuovo continua a dire che c'è bisogno di nuovo di nerfare ancora l'eim assist perché non si può giocare sostiene lui soprattutto quando arrivi a certi livelli e incontri giocatori che il pad lo sanno usare correttamente anche per lui diventa impossibile voi ovviamente cosa ne pensate di questo argomento sappiamo che ne trattiamo ne parliamo anche in live spesso e volentieri ma parlando in maniera neutrale secondo voi è ancora troppo esagerato il pad in partite matchate su pc con chi ha mk io mi lascio non mi espongo conoscete la mia conoscete la mia posizione vorrei ascoltare i vostri commenti proprio qua sotto e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché è un'immagine meravigliosa quella che viene mostrata da un leakers una versione di mida completamente in diamante probabilmente anzi quasi certamente sicuramente un concept però è un altro è un'altra idea davvero molto bella per inserire uno stile in più di mida nelle overtime challenge anche perché molti se le aspettano per il discorso anche di deadpool deadpool che è stato protagonista per gran parte di questa season abbiamo addirittura ricevuto due colorazioni due varianti per la sua skin quindi senza maschera e di colore bianco e nero che sinceramente l'ultima colorazione ci sta ma potevano anche risparmiarsela perché magari non fare qualcosa anche dedicato a lui come overtime e come skin outfit diverso e siamo arrivati ragazzi all'ultimo argomento di oggi che è un argomento molto interessante perché se andiamo nei file di gioco notiamo come sotto la sezione dell'evento e più in precisione dove c'è l'agenzia l'agenzia avrà degli stage di progressione che si alternerà che si progrediranno ogni tot giorni questo vuol dire appunto che potrebbe succedere qualche cosa non sappiamo ovviamente che cosa potrebbe rovinarsi l'agenzia potrebbe inondarsi potrebbe esserci la corrente in giro potrebbe essere semplicemente magari gli oggetti all'esterno che si attivano e che si alzano però sappiamo e oramai ci siamo che dopo la patch 12.60 arriverà anche il doomsday event quindi il giorno del giudizio quello dove insomma mida attiverà la macchina che possiamo vedere sullo sfondo della sua parte e nella sezione degli agenti e chissà chissà cosa succederà certo non dobbiamo rimanere delusi perché sicuramente sarà un grandissimo evento almeno questo è quello che è p games ci sta promettendo da un bel po insomma ragazzi io vi ringrazio anche per oggi per avere guardato il video news incrociamo tutte le dita nell'attesa della pace 12.60 mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi al canale e a me mi trovate proprio adesso il live su twitch ciao